Più sicurezza per tutti potrebbe essere. Questo è il motto di Bosch qui a EICMA 2015. Perché? Ce lo spiega Gabriele Eimone-Cat, Media Relations Manager di Bosch. Sicurezza è sempre un tema di assoluta attualità per il gruppo Bosch. Anche quest'anno qui all'EICMA 2015 introduciamo una novità assoluta, la nuova versione dell'ABS 10 che perde 40% di peso, 30% di volume, quindi adattabile a qualsiasi tipo di motoveicolo, soprattutto quelli di cilindrata minore. E' proprio che in tale direzione la nuova divisione Two-Wheelers & Powersports, fondata quest'anno all'interno del gruppo Bosch e che si andrà a occupare nello specifico del settore due ruote, vuole allargare e vuole intensificare la penetrazione dei sistemi di sicurezza all'interno delle cosiddette classi low cost due ruote. Quindi un'ABS 10 che può essere anche ad un canale, andando ad agire nella suola ruota anteriore, ma che permette di abbattere drasticamente l'incidentalità, riducendo feriti e casi più gravi di incidenti anche appunto nei mercati emergenti asiatici e indiani.